Allora Bomber, anche oggi hai timbrato il cartellino, cosa ne dici di giocare nel dottone? Beh, innanzitutto buonasera a tutti i radioscoltatori, per quanto mi riguarda giocare in una piazza così per me è motivo d'orgoglio, con una tifoseria così importante, non mi è mai capitato nella mia umile carriera e quindi me la ricorderò per tutta la vita questa stagione, comunque oggi era una domenica difficile per noi perché siamo tanti nuovi e stiamo provando tante soluzioni durante la settimana e non sempre ci vengono, oggi direi che è stata la partita quasi perfetta, temevamo questa trasferta, l'abbiamo affrontata nel modo più giusto penso e l'abbiamo portata a casa e rimaniamo aggrappati al gruppo di testa diciamo. Domenica ci aspetta un bel big match, penso contro la squadra più forte del girone e ce la giocheremo tranquillamente come tutte le domeniche. Beh, se giochiamo come oggi penso che possiamo giocare alla pari. Ma questo sicuramente, rispettiamo tutti, non abbiamo paura di nessuno, giocheremo davanti ai nostri tifosi, giocheremo in casa, cercheremo di sfruttare questo fattore e regalarci un'altra vittoria. Grazie mille, buon vero a Campora.